L'intervento ha riguardato il sistema di controllo degli attestati di prestazione energetica della Regione Emilia-Romagna. La Regione Emilia-Romagna ha attivato un sistema di controllo degli attestati di prestazione energetica. L'intervento è stata descritta la procedura, quindi le due fasi, la verifica di accertamento di primo livello e la verifica di ispezione di secondo livello con gli ispettori. Sono state descritte i contenuti normativi, i risultati della procedura di controllo, dei numeri di attestati sottoposti a controllo, di accertamento e di ispezione e poi sono state fatte domande dal pubblico sullo stato dell'arte.